apriamo una nuova sezione sulla bash prima tuttavia di entrare proprio nel vivo della tra virgolette programmazione bash andiamo a vedere secondo me molto importante una sezione sulla navigazione del da terminale vediamo alcuni comandi quindi non so ad esempio vediamo il nostro autocompletamento lo abbiamo già visto tante volte ma adesso lo vediamo quindi diciamo che io sono nella home e lo posso usare in due modi l'autocompletamento adesso clicco una volta non succede niente perché perché ci sono diverse cartelle allora se io clicco due volte lui mi fa vedere le varie alternative che io ho a disposizione ok a questo punto io posso scegliere qui ad esempio se scegliessi pubblici scrivo pu a questo punto clicco tab una volta sola e lui me lo autocompleta in automatico vediamo però che cosa succede se io dovessi scegliere scrivere sc allora come vedete ci sono due parole che cominciano con sc per cui adesso se io clicco una volta tab e non succede niente allora clicco due volte e lui mi fa vedere quali sono le opzioni a questo punto io ad esempio scrivo r lui capisce che l'unica alternativa possibile è questa parola adesso clicco tab una volta sola e me la autocompleta correttamente per cui l'auto diciamo l'autocomplete funziona l'autocompletamento funziona finché non ci sono caratteri uguali fra diverse parole in questo caso dovesse verificarsi questo caso invece lui con cliccando due volte mi fa vedere le opzioni poi ritorna il punto in cui ero poi andiamo a vedere altri esempi per cui ad esempio contro la e contro le si spostano rispettivamente all'inizio e alla fine del della riga quindi sposta il corsore contro la va indietro e contro le alla fine poi contro il bill e contro le f back and forward vanno avanti e indietro di un carattere per volta quindi back 1 forward 1 per volta xx invece fa avanti indietro a partire da un punto quindi non so ad esempio scriviamo una cosa a caso io mi metto qui fra nano e cat faccio contro il primo due volte x e vado all'inizio a questo punto scrivo adesso ad esempio suudo quello che voglio ripremo due volte x e torno nel punto in cui ero prima ok quindi serve proprio a fare questo tipo di cose allora contro il v cancella l'ultima parola quindi la parola che che viene prima come in questo caso contro il v invece cancella tutto quello che c'è prima del cursore ecco qua un esempio contro il k invece cancella tutto quello che c'è dopo del cursore e poi possiamo utilizzare contro il y per fare un past perché ad esempio adesso avete visto che ho eliminato contro il k tagliato lo voglio applicare qua ed ecco quindi sostanzialmente una sorta di past poi contro il più e contro il meno li abbiamo già visti anche all'inizio della lezione fa l'ingrandimento la riduzione dei caratteri molto utile contro il c invece fa un break del processo quindi esce diciamo sostanzialmente da questo contro l fa un clear del terminale e per finire questa lezione contro il d fa il logout quindi esce quindi contro il d è l'equivalente di scrivere logout e lui esce